Buongiorno, in episodio 2 e 3 abbiamo visto come produciamo un singolo pezzo delle parti dell'equipmento. Ora voglio mostrare come possiamo assemblare queste parti. In questa linea lavoriamo con l'alluminio profilo e il filtro. Abbiamo 4 linee di assemblamento, perché il ciclo della produzione è molto forte. Non ogni linea è sempre piena. In questo modo posizioniamo il materiale a right e a left, e l'assembler funziona nel centro. Se i componenti di assemblamento hanno parti elettrico o elettronico, o parti elettromechanico, questo è testato in questa area. Quindi ogni singola parte è testata prima di vendere. Ovviamente il final test sarà quando la macchina è assemblata all'interno. Come possiamo vedere, nella linea di assemblamento, all'inizio della linea abbiamo già messo la box per vendere al cliente. Quindi il materiale è assemblato e l'alluminio è messo nella box. In questo servizio abbiamo anche due linee diverse. Una è per l'alluminio LED. L'alluminio LED è l'alluminio che abbiamo sviluppato dentro, specificamente per il bodyshop. Abbiamo sviluppato il strip con un LED specifico per il bodyshop. per la qualità del colore e per la luce. Abbiamo sviluppato anche l'alluminio profilo. Abbiamo sviluppato il riflettore. La seconda linea è dove abbiamo sviluppato il controllo. Ogni controllo della macchina è produzione interno. Grazie per la sua attenzione.